segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te galimberti ma dunque la mafia era sparita perché non era più eclatante perché quando si fanno le stragi nella mafia va in prima pagina e sugli escreve della televisione quando invece si infiltra nella finanza in una maniera che non si è in grado di controllarla e non è così evidente e quindi praticamente sfugge all'attenzione generale quindi non se ne parla più in realtà secondo me più pericolosa questa di quella precedente anche perché questa è più attrezzata più intelligente e anche i mafiosi non sono più quelle figure di bassa cultura che abbiamo conosciuto però quello che ha detto scarpinati va tenuto con molta attenzione presente perché se è vero che ci abbiamo messo 30 anni a prendere messina denaro se è vero che per l'ina ce ne abbiamo messi 23 se è vero che per provenziana ce ne abbiamo messi 42 è ovvio perché l'alternativa è semplice o lo stato è incapace di prendere questi mafiosi oppure colluso non c'è altro questa è l'alternativa scelga lo stato quello che vuole essere se è incompetente o colluso se è incompetente o è colluso e dunque dice il professor galimberti finché nulla accade è perché non si vuole fare accadere in continuità con quello che diceva il senatore scarpinato però le chiedo professor galimberti invece dal punto di vista diciamo della sua esperienza clinica da da psicoanalista da persona che conosce la psiche umana in molti dicono lo stesso scarpinato appena detto messina denaro ha fatto degli errori perché aveva deciso di farsi prendere e in molti altri si chiedono per quale ragione una persona che ha un cancro al pancreas che ha una malattia diciamo molto severa difficoltà diciamo di guarigione anche con delle cure importanti per quale ragione dovrebbe desiderare di finire i suoi giorni in carcere per quale ragione per lo stesso motivo dovrebbe pentirsi e parlare che cosa potrebbe muovere una scelta del genere ma dunque quando uno ha in vista la morte come un fenomeno prossimo è molto difficile entrare nella psiche nella mente nell'anima nel cuore di questa persona e qui le scelte possono essere tra le più disparate non disperate disparate le più diverse perché può anche essere che io mi faccio prendere così in qualche modo confesso se non dico tutto quanto certamente il mio atto di farmi prendere è qualcosa che mi fa perdonare non nel senso che lo scarcero non nel senso che dirà tutto ma che si crea un sentimento di pietà per questo uomo ecco può darsi che abbia desiderato questo di fondo però questo prevede questo prevede che lui che matteo messina denaro si penta e parli cosa che sul pentimento noi abbiamo usato noi abbiamo usato la parola pentimento soprattutto per coloro che facevano dei calcoli se io mi pento ho una riduzione di pena se non mi pento non ho riduzione di pena qui non si tratta di avere una riduzione di pena si tratta di consegnarsi consegnarsi alla verità dei fatti non nella forma di dire tutto sarebbe interessante sapere tutto ma nella forma di non fare sempre più il fiuggiasco quando ormai quello che ti fugge la vita c'è questa clip allora la questione del